Ciao a tutti, sono Giuseppe. Oggi parliamo di domotica. Che cos'è la domotica? La domotica è l'elettronica, l'informatica, comunque le tecnologie applicate alla casa. Ok, andiamo a vedere l'articolo, vediamo dove siamo, dove siamo. Eccolo qua. Un amico mi ha detto che questa voce di Giuse, cioè Eloquence, non va molto bene per fare i video, quindi si capisce forse troppo veloce, forse troppo monotona, ma io la trovo bellissima. Comunque non è molto bella per ascoltare i video, quindi per chi magari non ha abituato l'orecchio, io che ce l'ho molto abituato, mi sembra bella, però cambiamo la voce. Ne ho installato un'altra. Sentite qua. Vocalizer. Ci sei? Non ci sei? Sei caricato? Vuoto. Vuoto. Domotica Sharp dal Giappone, elettrodomestici Smart con Alexa e varie radio digitali barra internet vintage. Ok, questa è Federica, piacere. Fideliti News utilizza i coocchi a livello di intestazione 2. Io sinceramente comprendo poco, non ho l'orecchio per queste voci, però andiamo a leggere così. Il sito è Fideliti House, poi lo metto nella descrizione del video su YouTube, quindi lo trovate un po' più in basso, credo, e quindi cliccandoci potrete, potete, perché già mi state ascoltando, potete andare a vedere direttamente l'articolo nel sito. Domotica Sharp dal Giappone, elettrodomestici Smart con Alexa e varie radio digitali barra internet vintage. Livello di intestazione 1. Ok, quindi c'è Sharp, un'azienda giapponese abbastanza nota, che ha sviluppato questi elettrodomestici che possono essere controllati con Alexa. Alexa di Amazon. Livello di intestazione 2. Sharp, sotto legida di Foxconn, torna a calcare le platee che contano e, in diversi eventi, ha annunciato vari elettrodomestici Smart animati da Amazon. Ok, ma che brutto come leggi. Comunque, andiamo avanti. Livello di intestazione 2. Alexa, oltre a 3 radio vintage dotate di Bluetooth e Internet. Link HTCH. Pubblicato il 29 gennaio 2019, alle ore 12. Ok, ed è il 29 gennaio. Separatore. Vuoto. Stavoce mi distrae. Link Facebook LinkedIn 3. Mi piace. 5. 0. Grafico do. Fine banner. Vuoto. Non c'è dubbio che la nipponica Sharp, controllata dalla cinese Foxconn, sia una delle aziende tech più abbrillato in questo inizio di 2019. Sfoderato. Sfoderato? Come sfoderato? Fine o 2019 due punti. Guarda, non lo so cosa sia sfoderato. Tanto che cos'è sto sfoderato. Il primo smartphone privo di tasti fisici e fuori. Non c'è dubbio. Il primo smartphone privo di tasti fisici e fuori. No, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Primo smartphone privo di tasti fisici e fuori virgola. L'acquos. No, si è fermata L'acquos. No, no, non ce la posso fare con questa. Scusate. Sfoderato. Sfoderato. Il primo smartphone privo di tasti fisici e fuori. Il primo tasti fisici. Non il primo smartphone non è privo di tasti fisici e fuori. La. La. Fine apostrofo L. Ma ecco perché si era firmato. Link a quos zero. Andiamoci di nuovo. Selezza fine. Vocalizzere. Che cavolo però. Il primo link a quos zero. E messosi in lista per produrre i prossimi OLED per conto di Apple. L'azienda di Osaka ha presentato un corposo set di elettrodomestici smart e in più. Ho capito perché diversi non vedenti scrivono Apple con la E e la PL. P-I-L-E. Apple. Apple. E-P-I-L-O-L. Scrivono proprio così Apple perché ci sono tisintesi che pronunciano Apple. Apple. Vabbè comunque andiamo avanti. Una deliziosa serie di radio retro dal cuore 2.0. Vuoto. Ok. Sharp ha sviluppato due radio diverse elettrodomestici. Anzi tre radio. Due vintage come radio. Una radio internet con sempre dall'aspetto vintage. E diversi elettrodomestici che ora andiamo a vedere. A Colonia, nel corso della Kermess Living Kitchen 14-20 gennaio, Sharp ha portato la line app Smartworks, una serie di elettrodomestici arricchiti. Del supporto ai comandi vocali di Amazon Alex è costituiti da frigorifero, forno, lavastoviglie, e lavatrici intelligenti, comandabili anche da app mobile. Vuoto. In cucina, il forno KA70S 50 ISW pur disponendo di 150 opzioni di cottura, compreso una per la pizza e una per la doratura e la gregliatura delle pietanze. Sfrutta Alexa per consentire all'utente di scegliere tra le varie ricette, ottenendo il settaggio automatico delle tempistiche e delle temperature di cottura. Questo, se è un forno elettrico, lo voglio. Questo lo voglio. Il risparmio energetico è garantito, nel forno Smart di Sharp, dalla funzione BOST che dimezza i tempi di pre-rescaldamento. Vuoto. Ok, abbiamo visto già il forno, questo è bellino. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace come forno. Quindi, diciamo, non ci trovo chissà che utilità, però se hanno fatto un forno senza manopolo, senza niente, con magari un display touch, forse questa è una buona scelta per poterlo comandare a dovere. No, e poi mi piace che ci sono i forni, mi piace, punto. Importante che siano elettrici, quelli a microonde mi piacciono molto di meno. Sempre gestibile da remoto ancorché privo di un display smart in auge presso i. Link competitor di LG e Samsung. Il frigo Smart S e lunga F1526 SIN sfrutta l'azionizzazione per aumentare la capacità di refrigerazione mettendo in campo lo spazio altrimenti destinato al freezer, porta gli alimenti alle rispettive ed ottimali temperature di conservazione più celermente, tramite la modalità super cool, mentre in virtù del quick drink mode, appositamente concepito per lattine e bottiglie permette di mettere a tavola drink già freddi, in tandem con un display smart Amazon. Esempio. Link co-show. O con uno speaker smart, la lavastoviglie QWHD65F444 a sfodere poco meno di un quarto d'ora lucidi, coperti per quattro persone. Ok, quindi abbiamo visto il frigo, ora è passato direttamente alla lavastoviglie. Il frigo, boh, non lo so, se mi togli il freezer, cioè mi togli o mi permetti di non avere il freezer, sì, vabbè, può essere una cosa utile, ma io il freezer, diciamo il reparto frigo lo vorrei un po' meno ampio rispetto al freezer, il freezer lo uso tantissimo per congelare roba. Così, la lavastoviglie... Vuoto? Sinceramente a me non interessa, lavo a tutto a mano, quindi, boh, sì, può essere anche interessante comandare la lavastoviglie con Alexa, oppure comandare il frigo con Alexa, boh, per me il forno è il must, cioè la cosa più bella, però questi qui magari a qualcuno di voi sono prodotti che possono interessare. Il cloud della sinergia con Amazon, però, sia nella lavatrice Sharp SHFT0148Z, grazie ai comandi vocali di Alexa, infatti, si può scegliere uno dei. Questa mi piace, la lavatrice mi piace, quindi forno e lavatrice, magari in futuro una lavatrice e un forno un po' più tecnologici forse li prenderò pure io. 22 programmi di lavaggio supportati, andando da quello poco disturbante per i vicini Night Wash, a quello fulmineo che lavasciuga un carico in 12 minuti. Ok. Senza dimenticare quello anti-allergia. In più, la lavatrice Smart di Sharp è in grado di dosare intelligentemente detersivo e ammorbidente per 20 lavaggi. Facendo partire via Amazon Dash l'ordine dei nuovi detergenti non appena quelli in dotazione, in base all'utilizzo stimato, stanno per esaurirsi. Non ce la posso fare. Questa è una cosa che disattiverei subito, immediatamente. Cioè, la lavatrice, quando sta per finire i detersivi, ordina i detersivi ad Amazon senza che voi facciate nulla. Poi i detersivi arrivano a casa e dite al corriere di Amazon, scusa, che ti ha ordinato queste cose. Ah, la tua lavabiancheria. Vabbè. Vuoto. Assieme agli elettrodomestici Smart, un'ulteriore occasione, Sharp ha presentato anche due radio digitali ed una radio internet. Le radio digitali Sharp. DR450 suono mono, 119 euro e Sharp DRS460 suono stereo da 30 watt, 139 euro, possono acquisire fonti audio tramite la porta AUX da 3.5 mm, ma anche... Quindi una mono, una radio mono, boh, vabbè. Comunque una radio mono e una radio stereo. Dall'antenna telescopica messa in tandem con gli standard RDS barra DAB, DAB più barra FM, 60 stazioni preimpostabili, e da smartphone barra tablet via Bluetooth, allestite. Nelle nuance bianco, grigio e color legno, hanno una struttura in legno con un frontale in alluminio sul quale campeggia un display rotondo dimmerabile. No, queste devono essere carine. Vuoto. Controllabile dalla poltrona grazie al telecomando E, infine, l'internet radio DR470, 179 euro. Vabbè, comunque ve l'anticipo io, questa è una radio internet comandabile con un telecomando, come dice qui, probabilmente comandabile anche con Alexa, e niente, serve per ascoltare la radio internet a 10.000 stazioni, prima ho letto l'articolo a 10.000 stazioni, può essere collegato con Spotify, collegabili con lo smartphone, eccetera, eccetera. No, delle cose tecnologiche per la vostra casa, no? La domotica si sta sempre più avvicinando agli utenti finali, no? Leggevo un articolo prima dove c'era una ditta torinese che ha prodotto un dispositivo per la domotica che si innesta dentro i nostri interruttori di casa, quindi non c'è molto lavoro da fare come, che ne so, passare fili nei muri, cioè fare tracce e così via, e quindi qualcosa che si innesta all'interno dell'interruttore, l'interruttore può essere comandato a distanza tramite smartphone e probabilmente in futuro sarà comandabile tramite i dispositivi, gli assistenti vocali, oppure tramite una sorta di intelligenza artificiale che spegnerà o accenderà le luci a seconda delle abitudini di noi, diciamo, utenti di di queste tecnologie. Bene, la domotica è sempre più vicina, magari può essere utile in alcune cose, io sono abbastanza tiepido su queste tecnologie, cioè non mi entusiasmano tanto, io sono più per le innovazioni che verranno un po' al di là e si integreranno con la domotica di casa, cioè i robot e l'intelligenza artificiale, quelle sono tecnologie che, diciamo, attendo con un po' più di, diciamo, un po' più di piacere per il prossimo futuro. la domotica così mi lascia un po' freddino, vabbè, comunque spero vi sia piaciuto, magari se volete interagire con me lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale, mettete, cliccate sul pulsante di iscrizione e così via, magari contattatemi in qualsiasi modo. Ci sentiamo alla prossima, presumo il prossimo venerdì. Ciao a tutti, da Giuseppe, ciao.